Domenica è una partita importantissima, in carriera tu ne avrai vissute tante, innanzitutto come stai? Moralmente siamo arrabbiati perché è un periodo in cui le cose non vanno come si vorrebbe. Fisicamente sto recuperando da questo infortunio, questa settimana abbiamo sfruttato per lavorare, e speriamo di stare meglio domenica. Ti aspettavi un po' il sacco così in alto quest'anno? Io non me l'aspettavo perché tutti gli anni partono per salvarsi loro, però non so se è una cosa per pararsi perché io conosco i giocatori che sono lì, sono comunque tutti ottimi giocatori, poi se sono in cima se lo sono meritato. A livello dell'ospediatore la sentite questa attesa? Certo, sentiamo che comunque il clima è diverso perché i tifosi si vede che ci tengono un sacco questa partita di domenica perché c'è anche rivalità tra le due tifoserie, e penso che questo noi bisogna sfruttarlo a nostro favore, nel senso che bisogna appennarci ancora di più per arrivare pronti a domenica. Grazie.